gentili telespettatori buona giornata appena ho aperto il giornale non ci potevo credere detto ma è uno scherzo meloni lascia gian bruno dopo i fuori onda la mia relazione finisce qui difenderò nostra figlia ginevra sono rimasto non avrei mai pensato a questo nel senso in un post su twitter la premier giorgia meloni ha scritto che la relazione con il ex compagno gian bruno si è conclusa il post arriva dopo i fuori onda di striscia la notizia registrati a margine della trasmissione del giornalista mediaset dove ha fatto delle prima ha fatto dei complimenti insomma ci stava provando con la collega dicendogli che peccato averti conosciuto solo adesso sei molto intelligente io io credo solo in te nel tuo giudizio stava parliamoci chiaro ci stava provando dai insomma non c'è troppo da girarci intorno e poi l'ultimo l'ultimo è stato proprio è stata proprio un'allusione un'allusione incredibile a sfondo proprio sessuale e credo che questo sia inaccettabile poi sono stato uno dei pochi a parlarne perché naturalmente sui telegiornali rai non ne hanno parlato sui telegiornali mediaset non ne hanno parlato per ovvie ragioni televisione di stato televisione di della famiglia berlusconi giornali di destra non ne hanno parlato ne hanno parlato solo i giornali di sinistra ed io prendendomi tutte le critiche dei tifosi che dicevano non ne devi parlare stai zitto fatti fatti tuoi non ha fatto niente cari tifosi avevo ragione avevo visto la gravità dei fatti e ve l'ho raccontato quando gli altri stavano muti e però non avrei mai pensato a una cosa del genere a una fine di questo di questo tipo e vi devo dire che mi dispiace mi dispiace perché quando quando finisce una relazione di questo tipo spiace spiace perché c'è di mezzo un bambino spiace perché sono convinto sono stra 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 convinto che la meloni come i figli di persone separate come lo sono anch'io figlio di persone separate hanno il desiderio e la voglia di di fare diversamente dai genitori dire no io non farò quello io avrò una famiglia che sarà unita solida a me non succederanno quelle cose però come vi dicevo ieri nei video tanto criticati stai zitto non parlare i classici tifosi senza cervello no stai zitto ripigliatevi come vi dicevo ieri purtroppo per fare funzionare le cose bisogna essere in due bisogna essere in due con la stessa intenzione se da una parte se da una parte c'è la volontà c'è la persona come la meloni di un certo tipo una persona seria una per quella che la conosco io perché attenzione noi stiamo parlando di una persona vista nelle televisioni ascoltata sui giornali poi come veramente una persona non lo si può mai sapere però visto così la meloni sembrerebbe una persona seria una persona posata una persona di un certo di un certo peso morale e quindi ce l'ha messa tutta per costruire la sua famiglia appena cambiato casa poverina la casa nuova per la famiglia per per il suo futuro e si è trovata all'improvviso a scoprire che in casa aveva una che uno che sul lavoro ci provava con la collega che faceva allusioni a sfondo sessuale che sfruttava la sua posizione la sua posizione di di conduttore provandoci con la giornalista che poverina è lì nella trasmissione e è anche paura nel senso di di dire cavolo se gli se gli rispondo male al piacione magari perdo anche il lavoro magari mi cambiano di posto mi demansionano quindi c'è anche il problema del piede del di ciuffetto che che ci provava con una subordinata nella sua trasmissione e questa si trovava ovviamente in difficoltà perché mettetevi mettetevi nei suoi panni c'è lì il compagno il conduttore compagno del del capo del governo che lì che fa le che fa le battute questa non sapeva esattamente c'è che faccio lo guardo male gli rispondo male faccio una risata lo capirà di smetterla invece ricordatevi che se ciuffetto si è si è comportato così secondo me quel tipo di persone non è che si improvvisano hanno un lungo curriculum di queste cose e poi l'ultima cosa che ha detto perché non vieni noi siamo un gruppo che vanno a bip a che vanno a a quindi quel noi siamo un gruppo che andiamo a intendeva davvero un gruppo che faceva già ste cose quindi c'è qualcosa sotto ancora più grosso va bene a questo punto come vi dicevo prima a me dispiace per giorgia meloni ma ciuffetto no il conduttore ridicolo di mediaset quello che fa tutte le scene adesso dovreste chiedere scusa a questo professore parla male del compagno della meloni stai zitto stai zitto vergognatevi vergognatevi come sempre ho ragione come sempre ho ragione non dico di aver ragione sempre perché sarei un deficiente a dire di aver sempre ragione ma al 99,9 per cento a meno che non mi raccontano delle cose false ho sempre ragione lascialo stare non ha fatto niente ma smettetela arrivederci a tutti e grazie